Termina 4-2 il match tra Bacigalupo-Vastomarina e Uomo nell'Aquila-Socer, valido per l'ottava giornata del campionato di eccellenza. Bruzzo femminile al campo Fulgenzio-Fantini di Vastomarina. I locali si impongono grazie alle doppiete di Benedetti, di una straripante e di Ninni. Agli ospiti non bastano le reti di Ambrosio e Ceselli che nella ripresa avevano tentato di riaprire la gara. Nei primi minuti di gioco regna un sostanziale equilibrio in campo. Entrambe le compagini giocano con personalità, impastendo iniziative con grande pulizia tecnica. La fase di impasse iniziale viene interrotta dopo 14 minuti, quando Di Ninni ruba palla al limite dell'aria, fa fuori il diretto marcatore con un dribbling secco e con un meraviglioso destro a giro spedisce la sfera sotto il seste. Al ventiduesimo arriva il raddoppio dei locali sugli sviluppi di un corner. Dalla destra Benedetti raccoglie la sfera a centro area con una girata improvvisa, fredda il portiere avversario. Bisogna attendere il trentaseiesimo per assistere a una timida reazione degli ospiti con Grella che prova la conclusione dalla media distanza. Il suo destro è debole alla quarantatresimo, imbucata profonda per Di Tullio che scatta le spalle della retroguardia rosso-blu, uscita tempestiva di Giacomini che anticipa tutti e salva il risultato. Nel primo tempo dei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara arriva anche il gol del 3-0. Benedetti riceve palla dal limite dell'aria, si sposta la palla sul destro e fulmina Belò con un destro ad incrociare, firmando la propria doppietta personale. Nella ripresa partono forti gli ospiti nel tentativo di riaprire la partita con una conclusione dalla sinistra di Ambrosio che termina di poco a lato. Era in ogni caso sulla traiettoria Giacomini. Sei minuti dopo sul cronometro ancora di Nenni che parte da 20 metri e si difila sulla destra portando a spasso tutta la difesa ospite e calcia forte sul primo palo. Il suo bolide si insacca sotto la traversa, nulla da fare per Belò. Alla diciannovesimo Aquilani riaprono la partita, Santarelli entra in area dalla destra e scarica un bolide che si stampa sulla traversa e torna in campo. Giacomini ormai battuta sulla sfera arriva Ambrosio che spinge la sfera nella porta vuota. Alla ventiseiesimo l'Aquila Soccer accorcia ulteriormente le distanze. Discesa di Grella lungo l'out di sinistra, il suo cross scavalca Giacomini e attraversa tutta l'area. Il pallone viene appoggiato a rimorchio per la corrente Ceselli che deve solo spingere un rigore in movimento. Negli ultimi minuti la partita resta in equilibrio e il risultato non cambia il finale 4-2. Partita complicata, l'abbiamo indirizzata abbastanza bene tra il primo tempo e l'inizio della ripresa. Poi un attimo di disattenzione, forse pensavamo già di aver messo il risultato in cassaforte. Abbiamo abbassato un attimo l'attenzione, abbiamo preso due gol probabilmente evitabili, ma ci sta anche per l'impegno che hanno messo le avversarie, per cui ci interessava fare un risultato utile in casa. L'abbiamo fatto e siamo contenti. Dobbiamo migliorare sicuramente la base, nel senso che abbiamo fatto errori semplici, stop sbagliati, passaggi semplici sbagliati che ci hanno portato a prendere gol. Sicuramente ci portiamo a casa, nonostante stavamo 4-0 abbiamo messo la grinta giusta e la giusta mentalità per non mollare.